Ogni volo è un'emozione completamente diversa, non ci sarà mai un volo uguale all'altro, quindi è una cosa veramente molto bella che ti stimola sempre più nel tempo. Quindi ogni situazione è completamente diversa e quindi c'è una esigenza diversa per far sì che tutto comunque venga fatto in pieno sicurezza rispettando quelle che sono principalmente le normative aeronarabili. Eliave offre diversi servizi di trasporto passeggeri, di wedding, di eventi, anche in centri nei confronti, in collaborazione con l'azienda, quindi quelle aziende che vogliono promuovere o comunque motivare il proprio team, è un modo come offrire qualcosa di veramente importante, bello ed emozionante. Abbiamo anche le tour gastronomiche, quindi dopo un tour si arriva nel posto che abbiamo stabilito e quindi lì abbiamo la possibilità di degustare quelle che sono le nostre grandi e grandi bondà. Un giocatore di golf appassionato che non ha molto tempo per poter magari visitare quelli che sono i diversi campi da golf, abbiamo proposto un servizio per quello di prendere il nostro cliente nel campo da golf stesso e accompagnarlo in un altro campo da golf e la distanza legata al tempo non è più un problema. Un altro servizio che abbiamo fatto è il fly-to-show, l'outlet village dove offre una miglia di opportunità per quanto riguarda l'acquisto, quindi prendendo i clienti li accompagniamo lì, facciamo una sosta di 2-3 ore in funzione delle esigenze che ha il cliente e poi li riaccompagniamo ovviamente e quindi permettiamo al cliente anche di poter uscire e andare a fare shopping in helicotter, quindi sicuramente è una bella iniziativa.